i ragazzi delicati hanno bisogno di essere visti perché noi non siamo dottori noi siamo mamme per quando ci vogliamo dare da fare però siamo mamme mamme con una paura addosso stanchissime perché possiamo da sole in casa con loro e dobbiamo fare tutto noi infermiere dottore e tutto ho detto quindi siamo stanchissime e siamo debolissimi e la denuncia ai microfoni di tv city di carmela russo responsabile del comitato mamme disabili di torre del greco nei confronti dell'asla dopo il decesso del marito a causa del covi dall'età di 66 anni la donna aveva da subito segnalato all'ente sanitario la mancata assistenza nei suoi confronti e nei confronti del figlio disabile entrambi positivi al virus ho segnalato già dalla settimana scorsa che a caso non vengono dottori a visitare questi ragazzi che sono già con patologie gravi delicate hanno bisogno di essere visti da dottori dopo le numerose segnalazioni il direttore dell'asla guido col bisiero appesa alla situazione si è attivato per aiutare la famiglia in difficoltà mio figlio ha avuto febbre alta cosa non si è sentito bene io se non chiamavo il 118 che comunque fanno quelle visite proprio così formali dottori io non più di tanto cioè qua a casa mia non è venuto nessuno sono venuti oggi sono venuto oggi sono venuti in casa tutti imbaccuccati questa dottorista solo lei senza niente in mano solo un foglio da scrivere senza un saturimetro senza la macchinetta della pressione senza quel macchinaggio per controllare se la respirazione in petto i bronchi stavano bene o no e questa me le chiamate visite ma ci state prendendo in giro non ce la facciamo più è il grido di disperazione della donna che si è sentita abbandonata a se stessa io sono arrabbiata nera 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 perché veramente la sanità non sta facendo niente non sta tutelando nessuno perché al covi bene conosco tante di persone che stanno in casa abbandonate e i dottori non vengono vengono attivate l'usca ma l'usca non esiste e adesso che sono venuti da noi e come fossero fantasmi perché non fanno proprio niente